San Matteo non è un feticcio, non è un potere magico, qualcosa di scaramantico, ma colui che ci porta nel cuore l'esperienza cristiana. La comunità salernitana deve più che mai ritrovare nella festività del Santo Patrono San Matteo, che ricorre il prossimo 21 settembre, la sua fede e riscoprire la vita cristiana. A più di un mese dalla ricorrenza che negli ultimi anni ha creato particolare attenzione sulla festa religiosa più partecipata della città di Salerno, non mancando allo stesso tempo polemiche ed attriti su organizzazione, processione e tradizioni, il Vescovo della Diocesi salernitana, Monsignor Luigi Moretti, ha confermato anche per quest'anno che ci sarà la peregrinazio del busto di San Matteo nei quartieri di Salerno. Don Michele Pecoraro, parroco del Duomo, ha infatti già avviato la macchina organizzativa delle celebrazioni ed è impegnato nel decidere quali tra le tante chiese della città ospiteranno la statua nei giorni che precedono il 21 settembre, così come è avvenuto per la prima volta già lo scorso anno. Credo che San Matteo per noi è quello che è, nel senso della festa patronale. So che il parroco del Duomo ha preparato già un programma di massima e penso che cercheremo di coinvolgere sempre di più la città. Continueremo le esperienze della peregrinazio in alcune zone periferiche della città e credo che questo serve non solo a ravvivare il legame con San Matteo, che certamente di per sé non ci sarebbe bisogno, ma serve a purificare questo rapporto con San Matteo. San Matteo non è un feticcio, non è qualcosa di scaramantico insomma, ma è colui che ci porta nel cuore dell'esperienza cristiana e far sì che la comunità cristiana di Salerno in San Matteo ritrovi la sua comunione e la sua unità significa riscoprire il senso più vero, più profondo della vita cristiana. Diversi gli appuntamenti in calendario che precederanno la festa del Santo Patrono, ha detto l'Arcivescovo Luigi Moretti, facendo appello ai salernitani a vivere ancor più San Matteo all'insegna della religiosità e delle più profonde ed amate tradizioni. Tra queste l'invito a partecipare alla tradizionale cerimonia dell'omaggio floreale a San Matteo, prevista la settimana precedente in piazza Flavio Gioia. Una bella tradizione come quella che si ripete ogni anno a Roma, detto in piazza di Spagna, nel giorno dell'Immacolata, portando e dedicando al Santo un fiore nel segno della devozione. Io credo che abbiamo trovato un equilibrio cercando di farci carico di tutte le esigenze. L'abbiamo proposto alla comunità, la comunità soprattutto per la partecipazione straordinaria anche dello scorso anno. che dimostra di gradire questo, mi auguro che tutti si coinvolgano cercando di, nel proprio specifico, portare i propri contributi. Per quel che mi riguarda vorrei così, per esempio, rilanciare la partecipazione a quello che è un momento non prettamente ecclesiale, ma più direi civico che l'omaggio floreale a piazza Flavio Gioia. Abbiamo cominciato a coinvolgere tutto il mondo dell'associazionismo salernitano perché possano non solo essere presenti nell'occasione, ma esprimere anche la loro partecipazione attraverso l'omaggio floreale, che è un po' quello che avviene ormai da tanti anni a Roma, il giorno dell'Immacolata. Se voi vedete il giorno dell'Immacolata a Piazza di Spagna, è tutta la colonna addobbata a fiori, sono tutte le varie esperienze associative della città che portano questo omaggio. E per me sarebbe bello che lì ci si ritrovasse proprio nel tessuto civico, sociale, per cui non solo le associazioni tipicamente ecclesiali, che partecipano alle celebrazioni così, ma può essere un momento in cui si ridefinisce un'identità cittadina, ecco questo, per ritrovarsi a fare l'omaggio a San Matteo che è collocato proprio in quella che era la porta della città. Grazie.